Si è tenuta nella mattinata di mercoledì 21 giugno 2017 la conferenza stampa di presentazione del Mediterranean Pride of Naples, manifestazione per la rivendicazione dei diritti civili della comunità LGBTQI che si svolgerà sabato 24 giugno. Il concentramento dei manifestanti è previsto alle ore 16 in piazza Municipio, area simbolica perché sospesa tra il porto, luogo cardine di partenze a Prodi nel Mediterraneo e Palazzo San Giacomo, sede del comune di Napoli. Il corteo si muoverà poi verso via Toledo, attraverserà piazza Trieste e Trento e piazza del Prebiscito e percorrerà infine via Partenope fino all'altezza di Castel del Lobo. Tema per questa edizione è il corpo, come ricorda Simona Marino, delegata alle pari opportunità del comune di Napoli. Quanto è importante promuovere iniziative del genere? Molto importante, Napoli ha una tradizione da questo punto di vista. Quest'anno il tema è veramente un bel tema, un tema delicato, dedicato al corpo come un campo politico, cioè il corpo che è sottratto agli stereotipi, agli stigma e che diventa invece espressione e manifestazione di una potenza che è radicale perché è un corpo che esce fuori dalla logica del controllo e della narrazione tradizionale mainstream e invece è un insieme di corpi differenti che manifestano il loro desiderio di libertà.